Ritroverete una dottoressa Jo, anticipa la d'Urso, determinata, accusata ingiustamente di inadempienza nei confronti di una paziente che si era tolta la vita viene assolta e ritorna in ospedale nel suo ruolo di ginecologa Ma con un obiettivo, vuole aprire all'interno dell'ospedale un centro antiviolenza per le donne Come ha dimostrato attraverso i social, la conduttrice ha trascorso alcuni giorni anche in sala operatoria. Ho assistito a parti naturali e cesarei, l'emozione di assistere alla nascita di una vita è sempre fortissima Ho anche fatto pratica con i monitoraggi, l-e-c-o-g-r-a-f-i-e Dopo essere tornata con successo al timone del grande fratello e aver riportato in corsia il personaggio di Giorgia Basile, la d'Urso ha ancora un, grande, sogno, e al settimanale. Arriverà il festival di Sanremo, prima o poi Ma tra un paio d'anni, prima mi prendo del tempo. Photo credits. TV sorrisi e canzoni